Qui vi presentiamo le 5 migliori sacchetto salvaspazio. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Ouba Sacchetti Salvaspazio. Il miglior sacchetto di risparmio area piano di bilancio del 2020 è Ouba. Questo è l'acquisto che consigliamo se avete intenzione di avere meravigliosi risparmi finanziari senza bisogno di mettere a repentaglio la qualità superiore, come molti clienti affermano nei loro punti di vista. Le borse Salvasa come spazio Ouba sono contenute in un set di 12 pezzi, di cui 3 dimensioni 4 pezzi da 80 x 100 cm, 4 articoli medi di 60 x 80 cm, 4 pezzi di 40 x 60 cm. Tutte queste azioni consentono di memorizzare ciò che si desidera al loro interno e anche di premere al meglio disegnando tutta l'aria all'interno. La borsa salvaspazzante è realizzata in plastica ultra resistente e anche infrangibile, con una cerniera che la chiude ermeticamente, proteggendo contro l'aria dal permeare all'interno. Grazie allo stesso, nemmeno altri agenti indesiderati e pericolosi per il benessere dei vostri goduti così come per i vostri vestiti, avranno la capacità di passare attraverso all'interno creando danni. Passando al numero 4 Kiwi o messacchetti sottovuoto salvaspazio riutilizzabili Se non hai bisogno di una moltitudine di borse salvasa come spazio, puoi acquistare Kiwi Residence. Il loro numero è abbastanza piccolo e anche questo vi permetterà certamente di fare uso di solo quelli che veramente richiedono, senza la necessità di mantenere gli altri che potrebbe non essere necessario. Kiwi House ha solo 10 pezzi in totale. 4 di questi Yubo, misura 100 x 80 cm e anche è possibile utilizzarli per oggetti di lavaggio a casa più grandi e più grandi. Il materiale di cui sono realizzati i sacchetti per aspirapolvere e il gel di silice antiossidante, contenente 90 micron pa e te. Questo li rende molto più resistenti allo strappo e ancora più isolanti rispetto agli agenti esterni che minacciano per la salute e anche per gli indumenti stessi, come umidità, muffa, falene, acari e molto altro. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista numero 3 MRS Bag Sacchetti sottovuoto vestiti 15 pezzi I sacchetti Salvasa e Jetta MRS Bag sono quelli che prendono il punto di partenza per quanto riguarda il valore in contatto. Non per assolutamente nulla sono tra uno dei sacchetti più acquistati così come più apprezzato nella testimonianza di vari altri individui, che li consigliano a coloro che, come te, stanno cercando di trovare questo tipo di elemento. I MRS Bugs sono 15 sacchetti Salvasa e Jetta prontamente disponibili in 4 diverse dimensioni Il 4XL con dimensioni di 100 x 80 cm, 4L di 80 x 60 cm, 4M di 70 x 50 cm e, in ultima analisi, 3S di 60 x 40 cm. Tutta questa varietà consente di tenere piacevolmente rivestimenti, piumini, lenzuola, strati, indumenti e asciugamani in una stanza davvero piccola, sia in armadie e cassetti e anche nel bagaglio. Almost at the top of our list at number 2 Urban Nomad Sacchetti Sottovuoto Vestiti Set Le borse sottovuoto consentono di salvare una grande quantità di area quando si richiede di salvare l'abbigliamento e vestiti in armadi, armadi e bagagli. Pochi, tuttavia, ti offrono cosa fanno le borse Urban Van Derer. Con la loro capacità di ridurre il contenuto di quanto 80% delle dimensioni tipiche, questi sono i più efficaci di tutti. Per comprimerli, basta utilizzare il semplice over che hai a casa. Grazie alla valvola di sicurezza e alla doppia chiusura chiusa, le borse manterranno sicuramente l'aria al loro interno senza problemi, mantenendo i capi confezionati a vuoto per lungo tempo. La plastica di cui sono fatti è molto spessa e super resistente e protegge bene il contenuto da sporcizia, muffa, falene e odori. E infine il numero 1 della nostra lista. Bramble 20 Premium Sacchetti Sottovuoto Salvaspazio Immaginate di avere la capacità di avere un gran numero di borse salvasa come spazio, diverse dimensioni e di alta qualità. Questa opportunità ti viene data dalle borse Bramble, tranne qualsiasi altra cosa li consideriamo i sacchetti salvasa e getta ideali per il 2020. Le borse a vuoto shrub collocate a portata di mano 20 sacchetti di 4 diverse dimensioni in quantità totale, all'interno dei quali si conservano trapporte, cappotti e anche qualsiasi tipo di ingomento ingombrante. Nelle due grandi borse, 80 x 110 cm, è possibile salvare coperte, piumini, cappotti e anche tutto ciò che avete extra ingombrante. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.